oltre a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video io sono ercole birmana ragazzi oggi siamo sulla nuovissima tipologia di video siamo tornati sulla ruota della fortuna però stavolta con i gusti del gelato ragazzi abbiamo frago, abbiamo caffè, abbiamo for di latte, abbiamo mucho gusto che è un tipo nocciola col cioccolato è buonissimo e ragazzi oggi faremo un vlog ora spinnerò due volte perché prenderò un gelato appunto da due gusti raga ovviamente voi non vedrete la mia faccia sentrete soltanto la mia voce e ovviamente vi taglierò una parte dove prenderò il gelato per vari motivi per esempio cioè insomma per vari motivi ragazzi non sto a dirvi manco quali comunque vabbè ragazzi io direi di andare a spinnare e speriamo bene perché ci sono dei gusti veramente non mi garbano allora andiamo a vedere cosa è uscito crema ragazzi ok crema abbastanza buono rispigniamo rega rispigniamo 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 e mucio gusto ragazzi sono i due dei miei gusti preferiti vabbè andiamo per adesso gelato ma rega stavo giusto per dimenticarmi e il gelato di edo perché lo prende anche lui da due gusti e mi raccomando edo allora vediamo un po' nocciola ok ragazzi edo piacciono pochissimi i miei gusti e fior di latte vabbè onesti ok ragazzi ecco qua i nostri gelati e io ho preso appunto mucio gusto e crema ed ho preso e cosa mi ha preso vedo? nocciola e fior di latte nocciola e fior di latte ragazzi adesso ce li poppiamo bello grazie 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 grazie